Bran Stark diventa metamorfo, il mastino non muore per un solo morso Lady Cat risuscita come Stoneheart, impicca brianditarti che non trova Sansa Stark Cersei condannata per adulterio, cammina tutta nuda per il sentiero a prodo del re in mano di zio che va in l'annister, agonizzante tutto spionato alla fine di Lora Sterell Daenerys perde un drago ma lo ritrova, Tyrion finisce nelle mani di Sargora Quentin Martell va a conquistare la Calisi, ma per colpa dei suoi draghi lui e la scorta vengono uccisi Jon Snow viene ucciso dai suoi confratelli, l'esercito di Stannis viene ridotto in brandelli Viccarion è l'unico a fare i grandi cui, e ricordate come sempre, Valar Morgudi Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!